Continua l'allarme siccità in Italia a causa della carenza di precipitazioni con diverse regioni pronte a chiedere lo stato di emergenza al governo. Una condizione che preoccupa anche la nostra regione per una stagione estiva che si preannuncia torrida, visto che è il giugno più caldo dal 2003. In generale le riserve idriche italiane sono diminuite di circa un terzo e la situazione si ripercuote un po' su tutta la penisola. L'Abruzzo ovviamente non è esente da queste criticità. Nel territorio terramano la Ruzzo Reti, la società che gestisce il servizio, ha annunciato una fase di severità idrica che però al momento non dovrebbe portare a particolari problemi come registrato in altri territori. Ma l'appello è quello di utilizzare l'acqua in maniera consapevole per non sprecarla. La regione ovviamente monitora tutti e sei i gestori. Lì il Ruzzo ha in qualche maniera formalizzato una situazione di severità idrica che non verse in una situazione di crisi come quella di altri gestori, però la problematica indubbiamente c'è. Poi insomma occorrebbe anche riflettere sul fatto che più del 90% del consumo di acqua non avviene per uso potabile, quindi una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'acqua non sarebbe indubbiamente sbagliato. Negli ultimi anni, nel periodo estivo, in provincia di Teramo si è registrata, in particolare sulla costa, una netta diminuzione delle problematiche idriche, frutto degli interventi messi in campo da parte della Ruzzo Reti. Noi siamo riusciti negli anni, grazie a degli investimenti sulla litorania, su nuove fonti di captazione, sull'accumulo all'interno di serbatoi, di poter gestire l'emergenza. Quindi noi affrontiamo con una ragionevole serenità la stagione estiva, fermo restando che comunque il tema della carenza idrica, della siccità, è forte anche in Abruzzo, ci stiamo lavorando. Ovviamente ad oggi le persone non avvertono in provincia di Teramo questa criticità. Se noi pensiamo che per esempio lo scorso weekend c'è stata una rottura della litorania in tre punti, e non c'è stata alcuna ripercussione sull'utenza, proprio perché i tecnici hanno lavorato 24 ore su 24 nel weekend, ma perché sul personale, sulle risorse umane in questi anni ci abbiamo lavorato, nonostante la riduzione oraria che c'è stata in qualche maniera imposta.